Una brutta pagina in chiave natalizia quella che gli organizzatori e l'associazione diversamente hanno dovuto registrare ieri mattina a Giulianova, dove dei ladri sono entrati all'interno del Paleventi, installato per le numerose manifestazioni organizzate per il Natale, rubando tutto il possibile. Situazione analoga registrata anche nelle casette di Natale in piazza Fossardiatine, un atto deplorevole soprattutto visto che gli espositori sono lì anche per fare beneficenza. I ladri hanno rubato di tutto, i giochi, le lampade e ancora i dolci, cioccolato, palettoni e qualcuno ha mangiato addirittura all'interno delle casette. Una situazione che dispiace visto il bel Natale organizzato nel comune costiero. Un'ottima affluenza di pubblico, soprattutto con i concerti e sinceramente siamo stati molto molto felici. Abbiamo anche avuto grande successo per quanto riguarda la pista di ghiaccio e anche il villaggio di Babbo Natale, diciamo che fino a ieri le cose sono andate tutte bene. Purtroppo poi c'è stato il problema di questi atti vandalici che più che altro sono stati degli sfreggi fatti non solo perché e per come, perché fondamentalmente dalla parte delle casette c'è stato soltanto un discorso di atti fatti da qualche bravata, fatti da qualche ragazzo che naturalmente essendoci telecamere già sono stati ripresi e tutto. La cosa più brutta che è stata praticamente abbiamo visto pure non tanto prendere di mira alcune casette, un paio di casette, ma più che altro sradicare pure le piante del comune lì attorno ai giardinetti, quindi è stato più fatto uno sfregio che altro. Invece per quanto riguarda quel palaventi purtroppo sempre la stessa sera sono stati dei ragazzi che non sappiamo è stato lo stesso e hanno fatto dei furti, mi dispiace che alcuni di questi furti qua sono stati legati a delle prodotti che davano beneficenza, tipo acqua, coca cola, aranciate, che noi davamo proprio in beneficenza alle persone, tutto quello che diciamo la piccola scorta che avanzava da un alloro la davamo, e in più delle bottiglie importanti, ma la cosa ancora più che ci è dispiaciuta è che sono andati nella parte di quella ristorazione e hanno svuotato completamente un frigorifero, quindi parliamo di un danno abbastanza ingente. Voi ovviamente avete presentato una denuncia? Sì, sì, abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri, già in mattinata di ieri mattina sono venuti e abbiamo rilasciato già la prima bozza di denuncia e oggi abbiamo fatto la denuncia formale di tutto quello che è successo, perché purtroppo è un danno che si è saputo da tutte le parti, quindi era giusto farla, è giusto farla nei confronti di tutti proprio, di tutti.